ciao a tutti oggi vi mostrerò un metodo naturale per pulire i nostri veri vetri di casa vi occorrerà uno spruzzino come questo un imbuto 50 ml di alcol 50 ml di aceto bianco e 250 ml d'acqua quindi cosa farete? versate tutta l'acqua nel contenitore tutto l'alcol e tutto l'aceto quindi cosa farete? richiudete così e sceglierete quindi come potete notare il mio forno è abbastanza sporco non so se si nota quindi cosa farò io? spruzzo il mio prodotto naturale e con un panno morbido asciugo il tutto così per bene come potete vedere le macchie sono andate via vi ricordate che c'erano tutti gli schizzi qui ecco come si presenterà come potete vedere qua ci sono dei puntini e degli aloni quindi cosa faremo? spruzzate un po' di prodotto e prendete il vostro panno fate questo movimento e vedrete che quegli aloni che c'erano qui non ci sono più visto? io spero che questo breve video vi sia piaciuto in pratica ve lo rispiego si tratta solo di acqua con dell'alcol e dell'aceto quindi una sostanza tutta naturale spero che potrò fare un video migliore perché non so da dove partire per fare vedere meglio il risultato eccezionale